Yeah, 3D baby Yeah, è il Gemita Insighted, così mi odi un altro po'. Allora, sto qui per dirti una cosa mega importante, che il 24 marzo, Arbarios de Milano, ci sarà la presentazione live ufficiale dei 21 motivi del nuovo disco del 3D. Per costa, regà, direttamente da gente deborgata alla famiglia, annuncio importantissimo per voi, 24 marzo, Arbarios Milano, 6 aprile, Zubar, Roma, presentazione live dei 21 motivi, il nuovo disco del 3D, la serata è piena di ospiti d'eccezione, oltre il sottoscritto una cifra di altra gente che spacca. Se in estate dovete venire il 24 marzo a Milano per 21 motivi del 3D che finalmente esce il disco dopo video su video e non basta, dovete venire pure a Roma, allo Zubar, il 6 aprile, mi dice Oniro, che c'è sta l'altra serata dove lo Zubar crolla, c'è sta lo showcase del gesto, lo showcase mio, portacci vostra, se non venite non c'è a vedere veleno, non ce l'avete mai avuto, merda! La serata Relays Party di 21 motivi di 3D a Milano, Arbarios, Barona, invece 6 aprile a Roma, allo Zubar, stessa serata, 21 guest da paura, 21 motivi, bye! Yo, bella raga, io sono Sergio, 24 marzo, al Barios e il 6 aprile allo Zubar ci saranno live, 21 motivi, 21 blunts, yo! 24 marzo, al Barios Club, a Milano, la scena hip hop italiana, 6 aprile a Roma, allo Zubar, 21 motivi, stronzo!